Musica Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati. A Venaria Reale, Torino, oltre 2.500 atleti hanno dato vita nel weekend alla festa del cross con i campionati italiani individuali e di società. Per la terza volta, seconda consecutiva, la Trieste Atletica di Fanciullo e Furlanic si aggiudica la classifica combinata del CDS Assoluto di Cross, che tiene conto di tutte le categorie maschili e si cuce lo scudetto sulla maglia. Ha preceduto la Stamur Ancona e la Fratellanza Modena. Il suo uomo migliore, Jacopo De Marchi, è quinto nelle promesse. I triestini non sono riusciti invece a bissare il successo nella staffetta, arrivando solo sesti preceduti dal Malignani Libertas. Chi invece si è comportato egregiamente nelle staffette la sportiamo Trieste. Seconda nei Master 45, con informazione Moreno Mandic, Alessandro Maraspin, Manuel Dallabrida e Francesco Nadalutti. E quarta nei Master 50. Bene anche Giovanni Silli, settimo negli allievi, e Matteo Spanu, sesto nel cross corto, entrambi delle Malignani Libertas. C'erano fondate speranze di vittoria della squadra cadette, ma è arrivato un quarto posto che comunque, tra le 21 regioni italiane in Lizza, è un grande risultato. Elisa Gortan è sesta, Serena Rodolico dodicesima, e Beatrice Vattolo ventinovesima. I cadetti d'accanto loro portano a casa un onorevole ottavo posto, con Tommaso Bruscia ventesimo. Superlativa la prova portata a termine da Ilaria Bruno della Libertas Porcia. La Purliliese si piazza seconda nelle allieve dietro all'alto a Tesina, Katia Pattis, dopo il record regionale indoor dei 1.500 di un mese e mezzo fa. Tutto questo, afferma De Mori, fa presagire una stacione con il minimo puntato sul vecchio 10 minuti, 10 secondi e 6 di Lorella Coretti, record dei 3.000 allieve, che risale addirittura a 42 anni fa. Federica Bottergia, velottista di Latisana che vive a Portogruaro e dette serata atletica Bruniera a Friuli in Tagli, nel corso dell'incontro internazionale giovanile con la Francia, ad Ancona ha lanciato a 52,72 metri, record regionale junior, seconda prestazione regionale all-time in assoluto dietro a Elisabetta Marin, 61,77 metri nel 2004, e terza junior italiana di sempre. L'impresa di Federica, a cui è assistito in diretta la sua allenatrice Vilma Vidotto, a sua volta grande già velottista nel recente passato, 59,12 metri nell'86, quando militava con la SNIA Milano, e di quelle che si ricordano, anche perché l'atleta, che compirà 18 anni appena a metà novembre, ha ampi margini di miglioramento. Coppa Europa di Lanci a Samorini, Slovacchia, dove la squadra italiana sabato e domenica ha partecipato dal trofeo continentale. Sottotono già da Andreutti Malignani-Libertas, che conclude la prova con l'unico lancio buono, il primo, a 50,03 metri, causa una pedana viscida e la pioggia che ha limitato le prestazioni di tutte le concorrenti. La discobola di San Daniele, che quest'inverno ha provato l'avventura anche sulle piste di Bob, aveva bissato il tricolore invernale con 56,10 metri, guadagnandosi così la maglia azzurra. Si rifarà presto, ne siamo certi. E con le immagini di Marco Piermarini passiamo all'Aipacco con la prova conclusiva del Grand Prix di Corsa Campestre CSI, organizzata dalla Polisportiva Tricesimo. Alla trentesima edizione del Cross delle Colline Moreniche hanno partecipato quasi 300 atleti. I padroni di casa si sono distinti con le vittorie di Daniele Galasso, senior, Francesco Nadalutti, amatori A, Luca Guatteri, amatori B, bene anche la carne atletica con Giulia Sbordone, juniores, Marta Pugnetti, senior, Franco Adami, veterani B. La Mogese ha portato a casa due medaglie con Claudio Pugnetti, cadetti e Mohamed Al-Mouhmoud, juniores. Nelle esordienti vince Marta Franco del Natisone e Leonardo Di Nicolò dell'Atletica Dolomiti Friulane. La Domoro Palluzza intasca due vittorie con Alessia Cescutti, ragazze, ed Elisabetta Tarussio, allieve. Marco Vallar, atletica Dolomiti Friulane, è il più forte dei ragazzi. Anna Canalec, alpini Udine, la prima delle cadette. Negli allievi dominano lo sloveno Jakob Medves. L'Atletica 2000 a Codroipo vince due prove con Giuliana Driutti, amatori A, ed Erika Bagatin, amatori B. Nelle veterane A e B le vincitrici sono Fulvia Cecchini, atletica Buia ed Edda Spangaro, stella alpina. Dei veterani A, primo, è Fabio Zuliani della Trattoria Friuli. Il GS Natisone primeggia nella classifica di società. Il prossimo appuntamento CSI sarà dal 5 al 7 aprile a Monza con il campionato nazionale di corsa campestre. Sentiamo Francesco Nadalutti al microfono di Cristina Raganato. Ciao, oggi ho fatto una gara un po' diversa dal solito per me, l'ho fatto tutta in testa, cercando di imporre il mio ritmo. È andata bene, ho sentito dietro gli avversari che facevano un po' di fatica, io ho insistito e sono riuscito ad arrivare da solo con un discreto margine di vantaggio sul secondo e sul terzo. Tu arrivi forse un po' affaticato, ma non direi affaticato, dalla gara di ieri. Sì, ieri mi sono cimentato nella staffetta a campionati italiani Fidal Master a Torino, dove abbiamo conquistato un buon argento. Domenica a Gemona si è disputata la terza edizione del Monte Ercole Trail, secondo memory a Lorenzo Tulisso, sportivo scomparso a Gemona proprio durante una manifestazione, ricordato alla partenza dal presidente del gruppo organizzatore del team Sky Friuli, Ivan Serafini. La gara portava i runner a percorrere i sentieri della Grande Guerra e ha richiamato alla partenza un centinaio di concorrenti. Il tragitto della lunghezza di circa 14 km e un dislivello positivo di 700 metri non ha creato particolari problemi al vincitore Tiziano Moia, Gemona Atletica, che si è presentato al Via il giorno dopo aver disputato la finalissima del circuito Nortec Winter Trail, campionato italiano di corsa sulla neve di Tarvisio, vinto dal pluricampione mondiale di corsa in montagna Marco De Gasperi, dove si era classificato al quinto posto. Moia ha prevalso nettamente in un'ora 8 minuti e 31 sul compagno di squadra Andrea Fadi, un'ora 13 e 15 e su Antonello Morocutti, Aldomoro Paluzza, terzo in un'ora 13 e 41. Quarta e quinta posizione rispettivamente per Filippo Pagavino, Atletica ed il Market e Patrick Merluzzi, Aldomoro. Tra le donne la spuntata Chetty Minato, nuova Atletica a tre comuni, in un'ora 32 e 22. Sul podio con lei sono salite Astrid Faganel, un'ora 33 e 25 e Alessia Remondini, GSA Pulvero, in un'ora 33 e 36. Quarta posizione per Eva Cepile, che si era fermata nelle prime due edizioni, in un'ora 34 e 26 e quinta per Sara Fuccaro, un'ora 39 e 3. I meno competitivi hanno invece affrontato la terza edizione Monte Ercole 9K, di circa 9 chilometri, con dislivello positivo di 250 metri a passo libero, aperta a tutti. Al termine pasta party e premiazioni. Prossimo impegno organizzativo per il team Sky Friuli, domenica 7 aprile a Bordano, con il trail delle Farfalle. E l'Atletica regionale premia i campioni 2018. La tradizionale festa dell'Atletica della Fidal, per premiare gli atleti che nel corso della passata stagione hanno vestito la maglia azzurra, vinto titoli nazionali e internazionali e stabilito primati regionali, si terrà sabato al Teatro Marcello Mascherini di Azzano X a Pordenone, con inizio alle 16. Alla presenza dei vertici regionali della Fidal, dell'assessore regionale allo sport Tiziana Gibelli, del consigliere della Fidal nazionale Elio Deanna e del presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin. Ecco l'elenco degli atleti premiati. Per la Trieste Atletica, Alberto Francesco, Biasutti Simone, Brigante Emiliano, Brunetti Michele, Capitanio Paola, Comit Manuela, Crippa Negagenet, De Marchi Jacopo, Di Blasio Alessio, Gergolet Marco, Mandusic Max, Messina Paolo, Mognie Leonardo, Nasti Patrick, Sancin Enrico, San Germano Giusi, Santa Antonella, Sollecito Lorenzo, Spadaro Pietro e Vicic Fabio. Per l'Atletica, Malignani Libertasurine, Andreutti Giarda, Del Torre Riccardo, Di Just Beatrice, Feruglio Alessandro, Giovanato Cristiano, Madrassi Matteo, Martini Sisabella, Nicosia Agostino, Rossi Davide, Saccomano Enrico, Spano Matteo, Tomasi Valentina, Zanchetta Gregorio. Per l'Atletica Bruniera, Friuli Intagli, Botter Federica, Bozza Matteo, Busi Milena, Cinca Elena, De Martín Rebecca, Egbo Ferdinand, Fina Michele, Martorell Nicola, Molmenti Paolo, Padovan Alessandro, Riccobon Enrico e Variola Andrea, dell'Atletica Aviano, Fra Giacomo Maria Cristina e Selan Iole, della Libertas Friuli e Palmanova, Berton Aurora e San Sa Giorgia, dell'Aldo Moro Paluzza, Gortan Elisa e Valle Franco, della Fincantieri Varsila Trieste, Girardi Giovanna, del Leone San Marco Pordenone, Lavarini Sara, della Triveneto Trieste, Modugno Lorenzo, della Fiamma Trieste, Maggiola Enrico. Le società premiate saranno l'Atletica Bruniera, Friuli Intagli, Trieste Atletica, Atletica Malignani, Libertasudine, Aldo Moro Paluzza, Bord Trieste, Trieste Trasporti, Nattisone Cividale, Fincantieri, Atletica Monfalcone. La dicesettesima Schi Crono Varmos di Forni di Sopra, organizzata dalla società sportiva fornese, con il sostegno di Promo Turismo Fibugì, si è disputata sabato, data di recupero dopo il rinvio del 2 febbraio, a causa di meteo avverso e pericolo di valanghe. In questa seconda edizione del Schi Raid Varmos, vittoria per la squadra composta da Marco Del Missier, della Fornese e Matteo Pilerhofer, dell'Aldo Moro Paluzza, in un'ora 47.37. Marco Del Missier ha così bissato il successo dello scorso anno, quando aveva corso con Giuseppe Della Mea. In seconda posizione si sono classificati Andrea Protti, Dolomiti Skyalp e Michele Dal Ring Valvisdende, in un'ora 52.03, mentre terzi sono giunti Marco Nassivera ed Herbert Caposassi, della Fornese, in due ore e due minuti e quattordici. Primo posto per la squadra mista Sabrina Kollovic e Fabrizio Zossi, società sportiva fornese. La crono scalata Sky Vertical è stata vinta da Manuel Dacol, in 34 minuti e 25, che ha avuto la meglio su Michael Leirer, mentre tra le donne si è affermata l'Austriaca, più volte vincitrice della Crono Varmost, Marina Kroen, che ha terminato l'impegno in 41 minuti e 15. La categoria Ciaspe ha visto al primo posto Christian Zarabara, Carnia Bike e Monica Penzo, Venezia Runners. Il ventesimo trofeo Claudia Corisello, tempo medio tra i concorrenti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, è stata vinta da Eric Tabacchi del Centro Cadore. E maratonina a Brugnera domenica 24 marzo, che si disputerà per la ventesima volta. La gara a carattere nazionale sarà valida come campionato regionale individuale junior, promesse e senior e master. Per questi ultimi saranno assegnati anche i titoli di società, nonché prima prova di Coppa Provincia di Pordenone. Organizzata dall'Atletica Brugnera a Friuli in Tagli e dal Comune di Brugnera, la maratonina si svolgerà sul circuito di 7 chilometri da ripetersi per tre volte, con partenza alle 9.30, da Via Santissima a Trinità. Previste anche distanze diverse per la non competitiva di 7, 14 e 20 chilometri e una camminata di Nordic Walking di 7 chilometri. Questa era l'ultima notizia dell'odierna puntata. Grazie per il fedele ascolto e buon proseguimento di serata.